eccomi ancora qua come ripetevo prima come potete vedere dei tetti ha nevicato tantissimo e faccio qualche ripresa giusto per voi per farvi vedere un po la situazione qui nella zona di bardonecchia situazione neve tagliamo un po di zoom vedete da queste riprese vi potete rendere conto di quanto ha nevicato c'è tantissima neve per fortuna le strade sono sgombre si può viaggiare a piedi tranquillamente onde evitare di prendere degli scivoloni pazzeschi come è successo a me poco fa che sono scivolato sono caduto porca miseria per la felicità di qualche mio amico e niente sono qui in questo paesaggio bellissimo spero che gradiate che riuscite a vedere le immagini come le vedo io dal vivo un'altra cosa chiaramente però insomma già così insomma il paesaggio racconta molte cose ok a tra poco